Ciao a tutti gli amanti del gossip e delle notizie. Benvenuti su Gossip News Ita, il vostro punto di riferimento per tutte le ultime novità dal mondo del glamour e della televisione. Oggi abbiamo una notizia tragica da condividere con voi, una notizia che ha scosso profondamente il nostro mondo. Parliamo della scomparsa prematura di Carlotta Dessy, una giovane giornalista Mediaset, avvenuta il 6 febbraio 2024. Carlotta, conosciuta per il suo lavoro come inviata per programmi come Pomeriggio 5 e Fuori dal Coro, è stata colpita da un tumore diagnosticato lo scorso agosto. Aveva solo 34 anni e avrebbe compiuto 35 anni il 15 febbraio. La notizia della sua morte ha lasciato tutti noi sconvolti e addolorati. Vi chiediamo di lasciare un mi piace a questo video e di iscrivervi al nostro canale Gossip e pegnusita per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie dal mondo del gossip e della televisione. Vorremmo anche sentire i vostri pensieri e ricordi su Carlotta Dessy nei commenti qui sotto. Grazie per il vostro supporto e per essere con noi in questo momento difficile. A presto con altre notizie e gossip.